andiamo Perché io ringrazio Giovanni, perché abbiamo fatto un prima show, come si dice, backstage, a casa di un amico qua vicino, è tirato qua una bottiglia del 2004, mi sembrava brutto non berla, il maestro non beve tanto, ci ho pensato io. Comunque questo pezzo io sono onorata di avere il grande autore che è qua, che si chiama Fulvio Binetti, da qualche parte, non so, c'è ancora un grande labirinto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.